Che cosa significa fare filosofia con i bambini? Non si tratta di spiegare loro che cosa pensassero Platone, Cartesio o Hegel, ma scoprire insieme a loro che le domande dei grandi filosofi del passato, guarda caso, sono le stesse che ci facciamo noi oggi. Chi sono io? Che emozione sto provando in questo momento? Qual è la forma migliore di governo per una città? Come cambiare ciò che mi circonda? Vedendo la filosofia quindi come una cassetta per gli attrezzi, come diceva Deleuze, qualcosa cioè che serve per costruire qualcos'altro e anche perché no qualche volta per aggiustarlo.